Lo scorso 22 febbraio l'Università della Sapienza di Roma è stata il palcoscenico di un importante incontro, dal titolo L'intelligenza artificiale all'incrocio dei saperi. L'evento si apre con i saluti istituzionali del professor Eugenio Gaudio, del professor Marco Scherf e della magnifica rettrice Antonella Polimeni. Fa da moderatrice la professoressa Simonetta Gentile, e intervengono gli esperti in arte e veloce, discutendo sulle origini e lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, a seguire il professor Navilli tratta delle elaborazioni del linguaggio. Dopo il coffee break si è definito il ruolo della robotica in un settore in piena espansione. Si è riconosciuta la Cina come l'attuale potenza emergente nel campo della robotica industriale grazie agli ingenti investimenti effettuati. Si sono evidenziati gli impatti delle AI nelle future scoperte scientifiche, con un focus particolare sul modello Sora di OpenAI, capace di generare video da prompt. C'è stata una panoramica sul futuro della medicina e l'applicazione delle AI nella previsione dei rischi per i pazienti. Si è parlato anche dei cospicui investimenti di Microsoft nel deep learning e la partnership con OpenAI per affrontare nuove sfide industriali. Inoltre si sono esaminate le funzioni di Copilot, il chat GPT di Microsoft. La sessione pomeridiana si apre con l'introduzione del professor Guido Alpa ed è dedicata agli aspetti giuridici, etici, sociali e politici legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Intervengono i professori Baldoni, Cadehon, Didon e Gaggero su questioni quali la sicurezza digitale e le trasformazioni del diritto. Nella seconda parte i professori Zenkovic, Avitabile e Petroni si concentrano sulle questioni della privacy, dell'etica e delle conseguenze sociali del deep learning fino ad arrivare al fintech con l'intervento del professor Vincenzo Vietri. A conclusione della giornata i ringraziamenti e le riflessioni finali della professoressa Simonetta Gentile.